Ehi Mela, ehi Mela, ehi Mela, ehi Mela, ehi Mela. Cosa? Cosa? Che vuoi adesso? Coltello! Cavolo! Vabbè io ci ho provato. Ciao a tutti raga, sono R Capo Alex, benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto ringrazio col cuore in mano Baby Guru per avermi fatto un capolavoro fantastico che a breve avrete modo di visionare. È da un paio di giorni che sono a conoscenza di una falla che ricopre tutti i dispositivi della fascia Apple, dove, tramite l'invio di un carattere indiano, tramite qualsiasi tipo di applicazione, esso causa il brick del sistema e lo manda in bootloop, nel peggiore dei casi. Questo accade perché il sistema non riesce a caricare l'immensità dei caratteri asci che ricopre tale simbolo, e quindi la macchina in questione si inceppa. Fatta questa introduzione lunghissima, prima di procedere alla soluzione, mi sento in dovere di scusarmi per l'assenza, per le intro che non riesco a fare al momento e per la mia assenza, sì, so che si è capito che ho detto varie volte assenza. Tale assenza è data da un forte impegno che ultimamente la scuola mi richiede. Scusatemi. A breve dovrei ricominciare ad essere più regolare. La soluzione più efficace che mi sento in dovere di darvi, che oltre a risolvere il problema al momento, vi protegge anche da altre incombenze di questo simbolo, è quella di aggiornare il dispositivo alla versione 11.3. Siccome io non voglio rubare visualizzazioni a BlackJeep Tutorial, che è stato così gentile con noi utenti, ad essersi strappato ore di vacanza per portare agli utenti un video con la soluzione, vi rimando al suo video, e se avete bisogno di assistenza io sono qua. Concludo dicendo che la mossa della HTC, di sfruttare questo bacco accaduto ai melafonini a proprio vantaggio, incitando gli utenti a condividere il simbolo, è stata meschina. Noi ci ribecchiamo a un prossimo video, stay tuned.